E allora io questo 0-0 che la Roma oggi ha portato via da Cagliari me lo porto a casa anch'io diciamo con media soddisfazione nel senso che comunque al primo tempo la Roma non mi è piaciuta però capisco pure che comunque le squadre che devono fare una stagione lunga, che devono fare si spera tante partite e vogliono cercare di raggiungere degli obiettivi è logico, è giusto che non siano in condizione in questo momento. La Roma nel primo tempo l'ha dimostrato molto farraginosa, non riuscivano a fare due passaggi da qui a lì e quindi c'è sta, manco mezzo tiro in porta. Nella ripresa invece è cambiato atteggiamento, la squadra è salita, la squadra è diventata più aggressiva, complice forse anche probabilmente la stanchezza del Cagliari perché poi c'è sta che il Cagliari nel primo tempo ha speso moltissimo, Cristanti ha avuto più libertà di giostrare, è riuscito un po' di più a impostare l'azione e si è vista una Roma più avvolgente, sulle ha puntato più spesso l'uomo, è andato anche al tiro, un bellissimo tiro tra l'altro d'esterno. Pellegrini si è mangiato un rigore in movimento perché poi parliamo se è chiaro, queste partite soprattutto quando non sei in condizione le vinci con gli episodi, quindi se Pellegrini si mangia un rigore in movimento dopo un bellissimo vedo di Dobbic e se lo stesso Dobbic che di mestiere fa il centro avanti e che sicuramente non è in condizione, l'abbiamo visto, sicuramente non ha trovato l'amalgama con i compagni, l'abbiamo visto, però se Di Bala ti dà un cioccolatino, tu a un metro dalla porta, di testa, non puoi non segnare, se di mestiere fa il centro avanti e ti ripeto non è una critica perché poi a me lui piace molto, mi piace come gioca per la squadra, mi piace come dialoga, si vede che in questo momento non c'è l'amalgama, non c'è la conoscenza che questa verrà con il tempo, però detto questo insomma io mi ritengo soddisfatto perché poi l'abbiamo visto quante squadre vanno incontro a figure di merda colossali come il Napoli oggi, l'abbiamo visto squadre come il Parma che sono aggressive e non te fanno giocare, lo stesso Verona, secondo me nelle partite che mancano ci saranno anche altre sorprese, quindi io da Cagliari mi porto questo punto veramente d'oro, poi bisognerà capire un attimino quello che deve fare Di Bala perché pure questa è una cosa che destabilizza, quello che deve fare Ebram, mancano dei giocatori da acquistare, manca il famoso Tersino, sembra che sia Asignon, io sinceramente non lo conosco, però comunque manca un centrale di difesa perché è andato via con Bulla, quindi la rosa è da puntellare, se vanno via determinati cacciatori sono da sostituire e da sostituire bene, questi cacciatori che arrivano si devono inserire, Paretes era squalificato ma comunque secondo me può apportare migliorie al centrocampo rispetto a un tristante, Enzo Lefe mi è piaciuto, anche se non è quel centrocampista che io mi aspettavo, cioè quando si parlava lo scorso anno anche di Rossi manca quell'aggressività, quel centrocampista in grado di fare come si dice oggi box to box, secondo me non è Lefe quel tipo di calciatore, tant'è vero che lui ci sta utilizzando Baldanzi addirittura al posto suo per fare quel tipo di ruolo lì e secondo me manca un giocatore di quel tipo, per cui quando la rosa sarà al completo probabilmente vedremo anche complice il miglioramento fisico della squadra, secondo me riusciremo a vedere una buona Roma, per il momento portiamo sacca da Sto Parigi che non è niente male, da sicuro.